La volle di cambiamento della gente, ora ha un volto. Niente più improvvisazione in politica, ma competenza e passione. Via i vecchi schemi partitici. Massimo Ferrarese è l'avvento del nuovo. Ferrarese è espressione di una speranza, la speranza per il futuro. Diamo dignità al nostro territorio, diamo speranza ai nostri giovani, diamo speranza a noi stessi. Il 6 e 7 giugno prendiamo in mano il nostro futuro. Scegliamo Ferrarese, presidente della provincia. Il futuro, basta sceglierlo.